Nato non era e cola si chiamava, l'antico saggio popolare starebbe bene a significare quello che è accaduto nelle ultime ore, in una parte della politica locale, la costruenda Forza Italia. Tutto nasce dalla convocazione di una conferenza stampa della nuova Forza Italia, in contemporanea in tutti i capoluoghi di provincia italiani. Il neo capogruppo del partito di Berlusconi in consiglio comunale, Oscar Aiello, si affretta a convocarla su input della segreteria nazionale, o meglio probabilmente della sezione comunicazione. L'invito agli organi di stampa recita così, si terranno sabato 7 dicembre, in contemporanea in tutte le province d'Italia le conferenze stampa della nuova Forza Italia, per chiarire e ribadire le posizioni del grande partito di Berlusconi su tre argomenti che hanno segnato gli ultimi giorni dello scenario politico italiano, ovvero l'estromissione del presidente Berlusconi, dal Parlamento, il no a questa legge di stabilità, il governo Letta Alfano e il ritorno a Forza Italia. Partito di cui faranno pienamente parte Grande Sud e Pid. Per la provincia nistana i principali dirigenti di partito, gli esponenti di Forza Italia più rappresentativi nelle istituzioni, i club Forza Silvio ed i simpatizzanti di Forza Italia, esponenti di Grande Sud e Pid, terranno la conferenza stampa a Caltanissetta. E proprio sul punto alleati e supposta partecipazione è nata la baruffa. Infatti a qualche ora dalla convocazione Saverio Romano lancia un'agenzia che parla di fughe in avanti. Serve il contributo di tutti, scrive l'onorevole di Forza Italia ed è per questo che invito tutti gli elettori di centrodestra a offrire il proprio contributo, ben sapendo che non esistono rendite di posizione o vantaggi acquisiti e che le fughe in avanti e le autoproclamazioni non solo sono inutili ma anche dannose. Così il deputato di Forza Italia, Saverio Romano. Dunque nessun invito è arrivato agli alleati e a loro dire, dal canto suo invece Aiello afferma che la conferenza è di Forza Italia ed ancora gli alleati non sono effettivi nel partito. Non è tanto la dialettica politica, ma che nonostante dal passato bisogna prendere insegnamento, così almeno si dice, i partiti continuano a litigare alimentando così il vento dell'antipolitica.